Sono stati beccati con le mani nel sacco, pronti a mettere a segno un furto all'interno di una chiesa e così per una giovane coppia sono scattate le manette. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro monitoravano infatti i due costantemente perché erano già stati denunciati lo scorso novembre per numerosi furti su distributori di lavanderie automatiche per un danno economico complessivo di circa 20.000 euro. Le indagini successive avevano poi dato via libera ad un nuovo filone investigativo dal quale era emerso l'interesse della coppia anche per luoghi sacri, autoparcheggiate e cimiteri e così ieri mattina i militari li hanno colti in fragranza a compiere un furto all'interno della chiesa di una frazione di città di Castello. Entrambi erano ben equipaggiati di tutti gli arnesi atti allo scasso, cacciaviti, grimaldelli, coltelli ed una mazza. Per i due, 44enne l'uomo e 27enne la donna, entrambi con precedenti di polizia alle spalle e residenti nel Perugino, sono schiattate le manette. Dovranno adesso rispondere dei reati di furto aggravato in concorso continuato.